La sua azienda, la Sedna, nuovo sponsor, main sponsor della Casertano, un progetto ambizioso e vincente? Grazie, sì, un progetto ambizioso e mi auguro certamente vincente. Io credo che quando ci sono delle energie in campo, positive, certamente ne uscirà qualcosa di buono. Ho creduto, abbiamo creduto come azienda che sviluppa impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi crediamo nella nuova energia, come energia non più del futuro, ormai del presente, ma crediamo in tutti quei progetti che hanno allo sfondo energie positive. Io credo che il Presidente Verazzo lo sta dimostrando, gli abbiamo creduto, crediamo nelle persone che stanno facendo parte di questo progetto, i giocatori, tutto lo staff che c'è intorno. Mi auguro, ripeto, che possa rappresentare anche un punto di rilancio per la società, comunque per la città di Caserta e per la provincia di Caserta, me lo auguro. E comunque per la campagna, visto... Comunque Vada si ha la sensazione, almeno oggi si è avuto la sensazione durante la conferenza stampa, che questo sarà davvero un binomio vincente. Io me lo auguro, ma ne sono sicuro. Certamente noi seguiremo da vicino, ripeto, questa squadra, cercheremo di supportarla in tutto ciò che possiamo fare, soprattutto con il cuore, come dicevo, perché sebbene io non sia un grande appassionato di calcio, ma come del resto il Presidente Verazzo, imparerò a seguire anche questa squadra, visto che ormai già mi ci sto affezionando.